Grazie per esservi collegati questa sera. Grazie a tutti. Siccome però gli argomenti sono tanti da coprire, inizierei subito e inizio subito con una definizione. Che cos'è Lambda Calculus? Lambda Calculus è un sistema formale di logica matematica che permette sostanzialmente di svolgere delle computazioni, di svolgere dei calcoli. E' costituito da quattro elementi. La cosa interessante, molto divertente, è che questi quattro elementi hanno delle corrispondenze uno a uno molto chiare con dei concetti che sono notissimi a chi si occupa di programmazione. Allora andiamo a vedere quali sono questi concetti. Scusate, prima di tutto vi chiedo una cosa. Le regole della casa è che ci siano domande, subito vengano domande scritte, aspettiamo alla fine. Alla fine ci sarà la possibilità di appunto fare delle domande scritte che poi verranno appunto poste. Perfetto, benissimo. Allora, abbiamo detto quattro elementi. Il primo elemento che costituisce Lambda Calculus è il concetto di variabile, che trasposto in ambito, diciamo, programmazione, adesso utilizziamo JavaScript come esempio, è una variabile, con l'unica magari notazione che in Lambda Calculus le variabili sono immutabili, cioè nascono con un valore e quel valore non può mai essere cambiato. Il secondo concetto è il concetto invece di Lambda, di funzione, o come viene chiamato in Lambda Calculus spesso abstraction. Qual è il corrispondente in JavaScript? Il corrispondente è una funzione, come noi la conosciamo, un'area nel senso che prende un solo parametro. Quindi un abstraction o Lambda in Lambda Calculus è una funzione, un'area in JavaScript. Il terzo concetto è il concetto che viene chiamato di application, che altro non è che valorizzare il parametro di una funzione con uno specifico valore contenuto in una variabile e fare sostanzialmente la sostituzione del parametro con l'effettivo valore che gli viene messo dentro. Quindi ancora una volta una cosa estremamente nota, ben nota per chi programma. L'ultimo concetto è quello delle parentesi che ci permette, diciamo, di organizzare la sequenza dell'esecuzione. Questi sono i quattro concetti di Lambda Calculus. Non c'è nient'altro in Lambda Calculus. Andiamo a vedere un po' un breve accenno di storia. Allora, Lambda Calculus viene alla luce nel 1936 quando un matematico americano, Alonso Church, professora Princeton, pubblica un paper in cui finalmente riesce a dare una risposta a un problema che un altro matematico tedesco, David Hilbert, aveva posto sul tavolo qualche anno prima. Il problema della decidibilità, ovvero, se qualcuno di voi è un matematico, vi prego non se la prenda, perché la mia è una definizione un po' rozza. Comunque, il problema della decidibilità, di fatto, è posso io trovare un meccanismo per cui, dato un qualunque algoritmo, sono in grado di capire a priori se questo algoritmo converge e quindi mi dà una risposta, oppure no, oppure magari entra in un loop infinito. Allora, tramite l'utilizzo di Lambda Calculus, Alonso Church dimostra che non è possibile costruire questo meccanismo. Un mese dopo, un altro matematico, Alan Turing, in Inghilterra, arriva alla stessa conclusione, utilizzando però un procedimento meccanico e, appunto, una logica totalmente diversa rispetto a quella di Alonso Church. Questa logica diverrà poi famosissima sotto il nome di Turing Machine. Quando Alan Turing pubblica il suo paper, poi gli dicono, sì, guarda, bravo Alan, però un mese fa c'era arrivato primo Alonso Church. Sembra che Alan si sia un po' arrabbiato, dopodiché però se l'è fatta passare, ha preso un piroscafo, ha attraversato l'oceano, ha andato a Princeton, ha andato a prendersi un PhD proprio sotto Alonso Church. I due quindi hanno lavorato assieme per un certo periodo e in questo periodo hanno scoperto determinate cose, sono arrivate a determinate conclusioni, tra cui una che a noi interessa molto, che di fatto Turing dimostra come Lambda Calculus e Turing Machine siano assolutamente equivalenti. Quindi, cioè, tutte le cose che può fare una Turing Machine le si possono fare con Lambda Calculus, tutte le cose che si possono fare con Lambda Calculus si possono fare con una Turing Machine. Di conseguenza, Lambda Calculus automaticamente diventa un sistema Turing Complete. E quindi, come dicono Church e Turing, essendo Turing Complete è in grado di computare tutto ciò che è computabile. Questo punto lo riprenderemo tra poco perché sarà l'inizio della nostra, diciamo, storia live. Facciamo però ancora un cenno di storia a Haskell Curry, altro matematico americano, che ha dato il nome a un meccanismo che noi utilizziamo più di qualche volta in programmazione, il meccanismo di carrying, che sostanzialmente significa che cosa? Significa che una qualunque funzione con un qualunque numero di parametri può essere trasformata in un equivalente funzione che è una sorta di catena di esecuzione di funzioni unarie, cioè funzioni che prendono un solo parametro. Allora, prima ancora qualche momento per chiarire alcune cose, diciamo, proprio formali. Allora, questi sono tre modi in JavaScript per esprimere esattamente la stessa cosa, la funzione di somma. Il primo modo, quello sopra, è il classico, usa la keyword function. Il secondo modo dice invece che somma è una arrow function, quindi è sostanzialmente la stessa funzione, però scritta in una maniera diversa. La terza forma è una arrow function senza parentesi graffe, dove il return è implicito ed è possibile utilizzarla nel momento in cui il corpo della funzione stia tutto in una riga. Ecco, noi utilizzeremo sempre questa terza forma. Invece, un po' più specificamente sul carrying, allora, abbiamo detto che una qualunque funzione, dato un qualunque numero di parametri, può essere scomposta in una catena di funzioni unarie, e a questo punto la versione sopra, che è sostanzialmente la funzione somma, che prende due parametri, x e y, ritorna x più y, è trasformabile nella forma sottostante, che io inizio a scrivere sul REPL, se vedete. La somma può essere anche scritta come una funzione, che prende una x, prende una y, e ritorna x più y. La cosa interessante è che per valutare questa funzione, io devo scrivere, prima passo l'argomento 1, poi passo l'argomento 3, e il risultato è 4. Faccio notare che se io passo solo l'argomento 1, mi viene ritornata una funzione anonima. Quindi, questo è tipico di JavaScript e di tanti altri linguaggi di programmazione, dove si dice che le funzioni sono cittadini di prima classe del linguaggio stesso, ovvero possono essere ritornate come valori e possono essere, come dire, essere inserite come parametri all'interno di altre funzioni. Ecco, questa sarà una cosa che noi utilizzeremo massicciamente oggi nella nostra presentazione. Allora, andiamo adesso al... iniziamo, diciamo, il cuore, il cuore della cosa. Abbiamo detto che Turing ha dimostrato che Lambda Calculus, che sono quelle quattro regole che abbiamo visto prima, e Turing Machine sono la stessa cosa, quindi Turing Machine può calcolare tutto ciò che è calcolabile, e quindi, per esempio, potrà fare 1 più 4, che fa 5, diciamo, una computabilità molto, molto, molto semplice. Il primo problema, però, che ci troviamo ad affrontare qual è? Il primo problema che ci troviamo ad affrontare è che in Lambda Calculus non esiste il concetto di numero. Abbiamo detto che ci sono solo variabili, funzioni unarie, applicazioni di determinati valori a certe funzioni e parentesi. Quindi non c'è concetto di numero, tantomeno concetto di operazioni sui numeri. Quindi, come dire, che cosa... dobbiamo trovare, inventarci qualche cosa. e Church stesso si inventa un concetto di come fare encoding di numeri in Lambda Calculus. Allora, che cosa sono i numeri naturali per Alonso Church in Lambda Calculus? Allora, i numeri naturali per Alonso Church in Lambda Calculus sono delle funzioni, delle funzioni che ricevono sempre due parametri. Il primo parametro, F, una funzione, il secondo parametro, X, qualunque cosa, e rappresentano, diciamo, queste funzioni rappresentano il numero equivalente al numero di volte a cui viene applicato il valore X alla funzione F innestata. In altre parole, se guardiamo la prima riga, zero è una funzione che prende F, che prende X e che ritorna a X, cioè che ritorna zero volte l'applicazione di X a F. Uno è una funzione che prende F, che prende X, e che ritorna una volta l'applicazione di X a F. Due è una funzione che prende F, che prende X, e che ritorna F di F di X, quindi X è applicato due volte a F. Tre è la stessa cosa, F di F di F di X. Quindi questo per Church sono i numeri. Sono i numeri. Quindi, per esempio, noi possiamo dire che, andiamo qua, che zero per Church è una funzione che prende, scusate, abbiamo detto una F, prende una X e ritorna X. Ok? Uno è una funzione che prende una F, prende una X e ritorna F di X. Ok. Che cosa possono essere, che cosa sono F e X per Church? Qualunque cosa, purché F sia una funzione e X qualunque altro lambda term. Quindi nulla ci vieta di, per esempio, definire F per noi come X, una funzione che prende una X e ritorna X più 1. e magari X per noi è 0. A questo punto, se noi passiamo a 0 di Church, questa F e questa X, otteniamo 0. Se passiamo 1, otteniamo 1. E avanti di questo passo. Ricordatevi, F e X possono essere qualunque cosa, per cui se io F l'avessi per esempio definita come una funzione che prende una X e ci concatena il carattere asterisco e se X avessi detto che è la stringa vuota, a questo punto 1 diventa la stringa che ha un asterisco. 2 che abbiamo detto per Church essere una funzione che prende una F prende una X e ritorna F di F di X a questo punto se questo 2 che ho scritto male e adesso rimetto a posto che è uguale a questo qui se questo 2 a questo 2 applico F la nuova F e la nuova X vedo che ottengo una stringa con due asterischi per cui diciamo ripeto che F e X possono essere definite come vogliamo però certamente a noi fa comodo per avere come dire un rapporto 1 a 1 con i numeri naturali come li conosciamo le definiamo in questo modo va bene certo che abbiamo definito 0 abbiamo definito 1 abbiamo definito 2 però dobbiamo trovare pure un modo un po' più algoritmico per definire i numeri naturali allora proviamo a vedere che cosa lo prima è una cosa 2 è quindi abbiamo detto per church è una funzione che prende F prende una F prende una X e ritorna F di F di X quindi 2 a cui passo F e che cos'è? è una cosa che ritorna X di F di F di X e 2 a cui prima passo F e poi passo X è una cosa che ritorna F di F di X ok quindi questa è pura diciamo meccanica di sostituzione a questo punto proviamo a vedere 3 che cosa è per church 3 è F di una funzione che prende una F prende una X e ritorna F di F di F di X ma guardate le due F di F di X centrali abbiamo appena visto che F di F di X centrali è equivalente a dire 2 di F di X quindi se sostituisco 2 di F di X dentro a quelle F di F di X rosse ottengo la versione sottostante che dice 3 è un numero è per church un numero che prende una F prende una X e ritorna F di 2 di F di X quindi a questo punto abbiamo capito che cosa? Abbiamo capito che siamo davanti a una funzione che ci permette di calcolare il successivo di un numero cioè se 3 è uguale a F di X che ritorna F di 2 di F di X il successore di N sarà una funzione che prende una F prende una X e ritorna F di N di F di X ok? A questo punto proviamolo perché magari come dire una prova da San Tommaso ci aiuta quindi diciamo che per noi successore di N è una funzione che prende una F prende una X e ritorna che cosa? abbiamo detto ritorna F di N di F di X ok? quindi per esempio il 3 potrebbe essere il successore di 2 se non abbiamo fatto errore e quindi lo proviamo abbiamo detto che se gli passiamo la nostra F e gli passiamo la nostra X ci viene fuori il 3 giusto? quindi 4 che cosa potrebbe essere? potrebbe essere il successore di 3 però io posso anche scrivere come successore del successore di 2 e 5 lo posso scrivere anche come il successore del successore del successore di 2 facciamo ancora una volta vediamo se è vero a 5 passiamo la nostra F e passiamo la nostra X e abbiamo 5 quindi quindi cosa? quindi possiamo dire che per esempio 7 è il successore del successore del successore di 4 quindi abbiamo applicato 4 3 volte alla funzione successore 4 3 volte fa 7 allora se però vediamo un attimo 3 più 4 per esempio è uguale al successore del successore del successore di 4 ok? 7 3 più 4 uguale al successore del successore del successore di 4 se chiamiamo la funzione successore la chiamiamo F se 4 lo chiamiamo X abbiamo F di F di F di X che però ci ricordiamo essere anche il risultato di 3 di F di X quindi vedete qua sotto che 3 più 4 cioè 7 è 3 applicato del successore di 4 quindi è evidente che ci stiamo avvicinando alla definizione di una formula di somma definizione di una formula di somma che cos'è? la somma è quindi una funzione che prende una N prende una M e ritorna N volte di successore di M allora vediamo un po' se la possiamo scrivere la somma nostra è uguale a una funzione che prende una N prende una M e poi ritorna che cosa? ritorna N volte di successore di M ok quindi sto parlando con le persone quindi cosa succede? succede che se io voglio provare per esempio abbiamo 3 e abbiamo 2 poi gli passiamo F gli passiamo X e otteniamo 5 quindi la somma sembra funzionare proviamo a vedere con 3 3 e ritorno a 6 quindi abbiamo trovato abbiamo trovato una funzione che ci dà la somma di due numeri di search adesso facciamo una cosa immaginiamo di avere una funzione che noi chiamiamo New Function che prende una N prende una M prende una F prende una X e poi cosa fa? dice guarda io applico prendo N di M di F e poi ci metto X dietro e poi diciamo che applichiamo la nostra New Function a coda A3 a 2 poi gli passiamo la nostra solita F e la nostra solita X e otteniamo 6 lo proviamo con 3 e 3 e otteniamo 9 mi sembra che abbiamo scoperto che cosa? abbiamo scoperto la somma la moltiplicazione scusate abbiamo trovato la moltiplicazione che è quindi questa funzione qui ma immagino che qualcuno di voi possa anche chiedersi com'è possibile che questa cosa sia una moltiplicazione allora andiamo a vedere attenzione quello che io vi faccio vedere adesso è una pura sequenza di operazioni meccaniche di sostituzione non c'è niente che non sia un'operazione meccanica di sostituzione se guardate questa è una cosa molto semplice sopra abbiamo due modi di definire una funzione che prende un numero ci aggiunge 1 se guardate la parte sotto quindi F è una funzione che prende una X e ritorna X più 1 quindi F se ha F passo 1 concettualmente che cosa sto facendo sto prendendo il parametro 1 lo metto all'interno il valore 1 lo metto all'interno del parametro X e con questo valore 1 sostituisco tutte le occorrenze di X nel corpo della funzione quindi ottengo 1 più 1 cioè ottengo 2 una cosa come dire abbastanza semplice abbastanza banale ecco sarà quello che vediamo in questa successione di cose è tutto così è questa roba qua che però in lambda calculus si chiama beta reduction ok beta reduction adesso vediamo utilizziamo questo meccanismo di beta reduction quindi di sostituzione meccanica per dimostrare che la funzione che abbiamo visto è effettivamente una moltiplicazione allora sopra abbiamo la definizione di 2 l'abbiamo già data prima 2 che cos'è è una funzione che prende una F prende una X e ritorna F di F di X poi in verde abbiamo 3 di F ci ricordiamo che 3 di F è una funzione che prende una X e ritorna F di F di F di X 3 di F di X è una funzione che prende che ritorna 3 F di F di F di X ok queste sono cose che abbiamo visto adesso andiamo a sviluppare un caso specifico 2 per 3 ok quindi proviamo a vedere 2 aperta parentesi 3 di F chiusa parentesi di X che è quello che abbiamo visto prima ok perché noi prima abbiamo visto questa roba qua quindi abbiamo visto scusate quello che quello che vediamo qua quindi vediamo 2 di 3 di F di X ok allora iniziamo primo step di sostituzione meccanica il primo step di sostituzione meccanica è che sostituiamo il 2 con la sua espressione diciamo allargata quindi al posto di 2 mettiamo F di F che ritorna X che ritorna F di F di X però questa in amaranto che vediamo che cos'è è una funzione è una funzione a cui passiamo come primo parametro 3 di F quindi 3 di F lo mettiamo dentro al parametro F e sostituiamo sostanzialmente tutte le occorrenze di F all'interno del corpo della funzione con 3 di F quindi facendo questa sostituzione arriviamo a questa forma F è scomparso quindi abbiamo X di 3 di F aperta parentesi 3 di F di X chiuse le due parentesi di X ok meccanica a questo punto però ci troviamo ancora una volta davanti a una funzione a cui passiamo un valore quindi passiamo il valore X la variabile X la mettiamo all'interno del parametro X che guarda caso qua si chiamano uguali quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo togliere X e sostituire tutte le occorrenze di X con X perché quello che ci troviamo sulla destra è ancora X quindi fatta questa operazione di sostituzione ci troviamo che abbiamo fatto scomparire X e abbiamo 3 di F 3 di F di X che non a caso però sono in verde e in blu perché ci ricordano quello che abbiamo qua sopra in verde e in blu quindi adesso facciamo un altro set di sostituzioni meccaniche per cui meccanicamente ci siamo trovati davanti a questa cosa qua ma in verde che cosa abbiamo? in verde abbiamo un'altra funzione una funzione che si aspetta un parametro a cui questo parametro gli passiamo il valore blu per cui ancora una volta sostituzione meccanica di F di F di F di X dentro a X quindi il risultato di questa sostituzione meccanica è quello che vediamo sotto F di F di F verde di F di F di F blu di X ma quante sono queste F 1 2 3 4 5 6 cosa vuol dire l'applicazione di X 6 volte innestata a F come abbiamo visto prima per Church è il numero 6 secondo il Church Encoding quindi questa diciamo è la dimostrazione del fatto che questa formula è effettivamente la formula della moltiplicazione ok allora domanda però io non so se si possa fare in questo in questo modo ma secondo voi queste due espressioni che vediamo qui sono la stessa cosa cioè la parte sopra abbiamo detto è la moltiplicazione prendo una n una m una f una x ritorno n aperta parentesi m di f di x la seconda prendo una n prendo una m prendo una f prendo una x e ritorno n di m di f di x cioè sostanzialmente ho tirato fuori la f secondo voi sono la stessa cosa qualcuno magari che vuole scrivere sulla chat si no forse maybe o attivare il microfono senza paura di sbagliare Giovanni in chat dice per me no ok va bene allora quello sotto sembra una somma allora facciamo così questa sotto la chiamiamo new function ok ed è una roba che prendo una n prendo una n prendo una f prendo una x e ritorno abbiamo detto n di m di f di x allora proviamo a fare new function gli passiamo 2 gli passiamo 3 gli passiamo f gli passiamo x e abbiamo 9 ok poi possiamo magari fare qua gli mettiamo 3 27 qua gli mettiamo 2 8 siamo davanti a cosa? siamo davanti all'elevamento a potenza giusto? perché di fatto quella sotto vediamo che è 2 alla terza quella sopra 3 alla terza quindi abbiamo scoperto che cosa? abbiamo scoperto che abbiamo trovato l'elevamento a potenza scriviamolo qua che magari scusate mi sono un po' perso corretto dov'è che ecco questo è l'elevazione l'elevamento a potenza potrebbe farlo anche più semplice però vabbè ok ok e il perché è condensato in questa sostituzione meccanica che adesso non vado a ripetere ma sostanzialmente sono gli stessi passi che abbiamo visto prima che ci portano a dimostrare che questa roba qui effettivamente è una un elevamento a potenza ok allora abbiamo visto abbastanza dei calcoli aritmetici almeno per il momento magari poi dopo il meno tempo ne vediamo qualcun altro però c'è un'altra cosa per esempio se tu se lambda calculus è un sistema tour incomplete deve essere anche in grado di fare la logica booleana per cui ci troviamo di nuovo nel problema di prima ma che cos'è vero e falso in lambda calculus visto che ho solo variabili funzioni applicazioni e parentesi allora vediamo un po' quale può essere l'intuizione se ci pensate una logica if that else è una logica è una funzione a tre variabili la prima variabile è una condizione booleana vero o falso a seconda di quanto se è vero ritorna il risultato del secondo parametro then se è falsa ritorna il risultato del terzo parametro else quindi di fatto if then else è una funzione a tre parametri se però io prendo if then else così come l'ho definita sopra e gli passo vero che cosa ottengo? ottengo una funzione di due parametri then e else che ritorna sempre then perché la condizione è vera quindi ritorna sempre then se a if then else passo falso il valore falso ottengo una funzione di due valori then else che ritorna sempre else che ritorna sempre il secondo valore quindi diciamo questa è l'intuizione che porta Church a dire guarda per me vero è una funzione che prende due valori x e y e ritorna sempre x falso è una funzione che prende x e y e ritorna sempre y quindi diciamo le definiamo qui dentro diciamo per noi vero è una funzione che prende una x prende una y e ritorna sempre x falso è una funzione che prende una x e prende una y e ritorna sempre y domanda secondo voi abbiamo già visto una funzione uguale a falso anche qui magari anche al microfono se qualcuno vuole dire l'abbiamo già visto esatto Vito abbiamo visto zero esattamente zero però vi dice qualche cosa che zero sia falso e falso sia zero ci ricorda qualcosa? beh insomma un qualcosa che abbastanza lo incontriamo abbastanza spesso in linguaggi di programmazione va bene adesso abbiamo vero e abbiamo falso ok vediamo per esempio adesso vediamo un'altra cosa definiamo una funzione che chiamiamo flip ok che cos'è? è una funzione che prende una f cioè una funzione prende una x un parametro prende una y un parametro e ritorna f di y di x flip si trova in diverse librerie di functional programming e di fatto quello che dice dammi una funzione che voglio ha due parametri dammi due parametri in una sequenza e io applico la funzione con la sequenza invertita dei parametri ok allora facciamo così vediamo un attimo che cosa succede se noi per esempio a flip che abbiamo appena definito passiamo la funzione true che abbiamo visto prima ok poi gli diciamo sei true o sei false e ci ritorna false poi passiamo invece false gli diciamo sei true o sei false e ci ritorna true cosa abbiamo trovato che flip è flip è il not booleano giusto perché se io chiamo prendo una funzione la chiamo not che dico che è uguale a flip e poi dico not di true e poi ripeto il passo true e false ottengo ottengo laddove invece se passo true cioè se uso true quindi se uso not true non not true ma true ottengo true ok quindi abbiamo trovato la not però con i booleani per esempio possiamo fare anche cosa possiamo fare anche gli end giusto end or questa roba qua quindi diciamo che abbiamo una end una end sarà una funzione che prende un booleano P un booleano Q e poi cosa fa ma allora qui non abbiamo altro che P e Q ok non possiamo giocare che altro che con P e con Q quindi prendiamo P ma P che cos'è P o è vero o è falso giusto però sia che sia vero sia che sia falso è una funzione che riceve due parametri quindi sicuramente posso passare due cose a P se P è falso end che cosa sarà sempre ritorna sempre falso giusto se P è falso end P Q sarà falso ma se P è falso se P questo P è falso allora siamo nel caso di una funzione che ritorna sempre il suo secondo parametro quindi qua dentro io devo avere F devo avere il falso perché se P è falso deve ritornare il secondo parametro e il secondo parametro deve essere sempre falso e se P è vero che cosa ritornerà ma ritornerà l'end ritorna se P è vero end di P e Q ritorna vero se Q è vero falso se Q è falso quindi se P è vero ritorna vero se Q è vero falso se Q è falso quindi ritorna Q torniamo un attimo al primo caso se P è falso ritorna F ma se P è falso può anche dire che torniamo P perché è falso abbiamo trovato la funzione end vogliamo vedere allora facciamo end di vero e vero e abbiamo sotto vero end di vero e falso abbiamo sotto falso end di falso e falso abbiamo sotto falso end di falso e vero abbiamo sotto falso or è molto simile è una funzione che prende una P prende una Q e ritorna che cosa allora P prende due parametri se P è vero l'or che cosa è vero sempre perché l'or di P e Q se P è vero ritorna vero ma quindi ritorna P se P è falso l'or di P e Q ritorna qualunque cosa sia Q cioè se Q è vero ritorna vero se Q è falso ritorna falso quindi possiamo mettere Q e a questo punto possiamo vedere per esempio che l'or di F e T è vero ma l'or di F e F è falso ok abbiamo ancora dieci minuti o siete sì sì abbiamo sì 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 ok allora vediamo un'altra cosa questa è divertente allora is 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 zero ok is zero è una funzione con cui ritorniamo vero se il numero che gli passiamo è zero falso se il numero che gli passiamo non è zero quindi abbiamo una funzione di n e nel corpo di questa funzione cosa ci mettiamo beh dobbiamo sicuramente partire da n che è l'unica cosa che abbiamo n vi ricordate che cos'è è un numero di church è un numero di church che sostanzialmente dice che cosa dice che andiamo a recuperarceli qui dice questo è un numero di church e quindi è una funzione che prende una F prende una X e ritorna un numero di applicazioni di F a X secondo qual è appunto il numero rappresentato dal numero stesso ok quindi n è una funzione che prende una F e prende una X ok se n è zero guardatelo qua sopra ritorna sempre la X ma siccome la nostra funzione è is zero se n è zero qui deve ritornare true giusto? perché se n è zero ritorna la X e la X deve essere true se n è uno due tre e quattro qualunque cosa deve ritornare che cosa? deve ritornare sempre falso d'accordo? però noi non possiamo semplicemente mettere sempre falso qui perché perché falso poi verrebbe applicato a vero e non sappiamo che cosa vuol dire allora teniamoci un attimo questa cosa per noi e andiamo a fare un'altra cosa andiamo a dire che cosa? io voglio se voglio costruire il concetto di costante in in lambda cosa posso fare? posso dire questo posso dire per esempio che prendo una funzione che prende una X prende scusate ho sbagliato allora una costante è una funzione che prende una X prende una Y costante è una funzione che prende una X prende una Y e mi ritorna X in che senso è una costante questa? che se io voglio definire per esempio la costante zero su una roba che è sempre zero basta che dica constant di zero ok perché? perché a questo punto qualunque valore mi venga passato ottengo la funzione zero quindi la costante di falso cioè una roba che è sempre falsa qualunque cosa essa sia chiamiamola constant f è la costante del valore f ok? a questo punto torniamo alla nostra is zero abbiamo detto che se n è zero ritorna sempre t ma se n non è zero ritorna sempre la costante falsa quindi a questo punto noi possiamo vedere che is zero applicato a zero è vero is zero applicato a due è falso is zero applicato a uno è falso quindi abbiamo visto questo è il primo esempio di una funzione che prende un numero e ritorna un booleano ok? ma questo per dirci che cosa per suggerirci per esempio che anche diciamo delle logiche un po' più complesse di quelle che abbiamo visto prima per esempio immaginiamo di avere una logica di una funzione che noi chiamo logic js ok? che cos'è? è una funzione che prende una n prende una m e ritorna che cosa? se n è uguale uguale a zero allora ritorno m adesso mi invento una logica qualunque altrimenti ritorno n per m quindi se io non ho sbagliato le cose questa logic js a cui passo magari zero e tre mi ritorna tre se però gli passo due e tre mi ritorna sei supponiamo di voler fare la stessa cosa adesso in lambda quindi creiamo una funzione che chiamiamo logic lambda è uguale a che cosa? è uguale a una funzione che prende un numero n un numero m come la nostra funzione javascript e poi si chiede ma n è zero se si ritorna m altrimenti ritorna la moltiplicazione di n con m e quindi se noi prendiamo logic lambda e gli passiamo zero e tre poi di sempre la nostra f e la nostra x vediamo che otteniamo tre ma se gli passiamo due e tre otteniamo sei ok ci sarebbero anche altre cose da fare vi faccio vedere questa allora chiamiamola new function come al solito è una roba che prende una x prende una y prende una f e ritorna f di x di y secondo voi che cos'è new function ve lo dico io è una tupla è una variabile è un array di due elementi uno dice come un array di due elementi un array di due elementi sì perché se io chiamo per esempio per zero zero che cos'è è new function a cui passo zero e passo zero io praticamente in per zero zero ho salvato i due valori zero zero in questo caso utilizzando il concetto di closure sostanzialmente quindi quei due valori sono in pancia a per zero zero a quella funzione per zero zero e da lì non usciranno mai però potranno essere utilizzati da qualcuno che per esempio gli passi una funzione che vuole due parametri quindi se io a per zero zero per esempio passo la funzione somma otterrò zero facciamo facciamo un per uno due uno che quindi è un signore che si prende un due e si prende un uno a questo punto per due uno se io prendo per due uno e gli passo la funzione somma prendo una f prendo una x se non ho fatto errori mi becco tre ok quindi abbiamo visto che cosa abbiamo visto anche che possiamo costruire delle strutture i dati tramite sulle funzioni ovviamente perché dentro c'è il concetto di closure quindi del fatto che una funzione si prende in pancia un valore e se lo tiene ok ma per esempio se io diciamo chiamo per la funzione che ho appena chiamato new function e quindi dico che e poi dico che cosa invento una funzione nuova che chiamo next pair e che cos'è è una funzione che prende un pair come abbiamo visto prima e a questo pair passa che cosa passa una funzione che prende una x prende una y e ritorna che cosa ritorna un pair il next pair che per primo valore ha il secondo valore y e per secondo valore ha il successore di y e poi faccio che pair di 0 e 1 è uguale a next pair di per di 0 0 quindi se a per di 0 se ho fatto giusto se ho fatto giusto se io a questo signore qui passo che cosa passo una funzione che mi ritorni sempre il secondo valore che noi conosciamo essere falso e poi gli passo f e poi gli passo x ottengo 1 ok quindi se io faccio per esempio pair e qui chiudiamo di 4 e 5 che cosa sarà uguale sarà uguale a next pair di next pair di next pair di next pair di next pair del pair 0 1 2 3 4 5 vediamo se è vero pair di 4 5 gli passiamo falso scusate gli passiamo falso f e x e otteniamo 5 gli passiamo vero e otteniamo 4 da questa parte questa roba qua se la sviluppiamo troviamo effettivamente la funzione che ci dà il previous quindi dato un numero qual è il numero precedente e se troviamo la funzione che ci dà il previous possiamo fare la sottrazione perché possiamo applicare il previous many times tante volte e otteniamo la cosa allora se volete possiamo vedere anche queste cose qua o siete cotti adesso chiedo anche a voi agli organizzatori come funziona secondo me l'interesse quindi puoi proseguire ancora un po' direi quanto manca quanto pensi che manchi ma vi posso far vedere come si arriva alla sottrazione per esempio eh dai 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 facciamo il giro va bene allora abbiamo visto questo abbiamo visto che il pair di 4 e 5 lo ottengo applicando una due tre quattro cinque volte la funzione next pair al valore pair di 0 0 ok in più abbiamo visto che se a questo signore qui poi applico vero cioè il true di 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 church ottengo il primo valore ottengo 4 quindi 5 volte applicazione di next pair a pair di 0 0 e poi l'applicazione di del concetto di vero allora vediamo un attimo che cosa potrebbe essere a questo punto la nostra funzione previous la nostra funzione previous si prende una n ok deve applicare il previous di n quindi supponiamo che n sia 5 deve applicare 5 volte next pair al valore pair di 0 ok quindi che cosa vuol dire 5 volte una funzione di un valore è chiaramente il numero del è il numero applicato alla funzione che in questo caso per noi è next pair applicato al valore che in questo caso per noi è pair di 0 0 ok dopodiché però gli dobbiamo passare anche true perché vogliamo il primo di questi signori proviamo a vedere se è vero ce l'abbiamo 5 sì 5 per noi è 5 quindi vediamo un po' se è il previous di 5 è 4 ma attenzione e che cos'è il previous del previous del previous di 5 3 volte previous su 5 2 siamo vicini alla sottrazione perché la sottrazione è una funzione che prende una n prende una m e poi che cosa fa? quindi supponiamo che la n sia 5 la m sia 3 applica 3 volte la funzione previous al valore 5 vediamo se è vero prendiamo sub di 5 e 2 quindi passiamo la nostra f passiamo la nostra x e abbiamo ottenuto 3 a questo punto andrei scusate avete non so se è stato distribuito il gitter repo che ha tutta questa cosa compresi gli esempi è pubblico quindi non so se è stato messo in chat se no dopo lo metto io lo sto pubblicando ah hai messo tu Andrea ok ok conclusioni a questo punto allora quello che abbiamo visto è utile nel mio lavoro giorno per giorno ma allora certamente nessuno si metterà mai a fare le addizioni come le fa Lonzo Church chiaramente non ha molto non ha molto senso allo stesso tempo però è un risultato è un esercizio che ci abitua perché non c'è altro a manipolare funzioni se avete visto prima quando abbiamo creato NOT NOT l'abbiamo creato sostanzialmente manipolando flip è vero è falso quindi ci abitua è un esercizio mentale che secondo me ci abitua a maneggiare le funzioni come si dice come first class citizens di un certo linguaggio e di conseguenza è sicuramente un esercizio utile come dire proprio come fare le scale per un musicista è divertente boh questo è sicuramente una questione personale io l'ho trovato divertente mi sono divertito a fare queste cose c'è qualche cosa altro secondo me secondo me sì c'è qualche cosa altro perché noi noi non abbiamo scoperto noi non abbiamo scoperto niente in questo esercizio cioè più che noi Alonso Church non ha scoperto nulla scuscolate non ha inventato nulla noi non abbiamo inventato niente Alonso Church non ha inventato nulla ha solo scoperto ha solo scoperto cose perché ha messo messo in croce veramente quattro elementi in croce più banali di così non si può e da quelli ha derivato quindi ha scoperto tutta una serie di verità tutta una serie di verità logiche che preesistevano a Lambda Calculus che preesistevano a Alonso Church cioè qui non si tratta di inventare si tratta di scoprire cose che esistevano cose che preesistevano anche se vuole se si vuole alla definizione umana di logica erano là erano là io trovo che che questa cosa abbia un che di religiosamente misterioso perché pensare che quella che noi riteniamo la logica che questa logica questa logica matematica che poi è alla base di tutti gli strumenti con cui cerchiamo di controllare la natura per quanto ne siamo capaci eccetera eccetera che questa logica preesistesse sostanzialmente alla logica come noi l'abbiamo definita perché era là cioè era là io lo trovo lo trovo come ho detto prima un un concetto religiosamente misterioso e affascinante detto questo se volete questi sono altri spunti per qualcuno che volesse approfondire un po' di più i primi due sono due talk molto belli su youtube dai quali sostanzialmente poi io ho preso l'ispirazione per fare questi per fare questi giochini e gli altri due sono due due articoli che ho scritto proprio su questi su questi temi l'ultimo dei quali dimostra come si può implementare come si può realizzare come si può codificare il famoso Y Combinator con javascript cos'è il Y Combinator Y Combinator è un combinatore quindi è una di queste funzioni che abbiamo visto prima che permette all'ambacalculus di fare sostanzialmente come si chiama la recursione la recursione quindi i loop sostanzialmente perché cioè se ci immaginate se vi immaginate con questi quattro concetti si riescono a fare anche diciamo logiche ricorsive vi ringrazio il mio nome è Enrico Piccinin lavoro per ThoughtWorks e vi dico anche che noi assumiamo quindi se vi interessa potete andare sul nostro sito oppure se non trovate il modo perché non sono non è chiaro potete anche contattarmi enrico.piccinina e workforce.com ok ti ringrazio adesso passiamo alle domande e lo facciamo con uno strumento che appunto è il solito strumento mi date un minuto che mi vado a prendere una bicchiere sì 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 intanto così cominciano a fare le domande potete usare o il QR code o se no andate sul sito menti.com utilizzate questo codice che vedete qui scritto e potete appunto scrivere le vostre domande provo a fare una magia Andrea vediamo se riesce no no perfetto non esce la magia non esce la magia adesso poi ti ti lascio la condivisione lascio un attimo il tempo no no perché pensavo che affiancasse no no adesso te lo lascio appena appena torno Enrico ti lascio così almeno condividi anche le domande comunque adesso non so se ci sente Enrico comunque complimenti veramente interessante perché si spiegato molto bene grazie allora ti lascio la condivisione Angelo così puoi scerare le domande ok ok dovresti dovresti tutti quanti vedere la mia schermata sono arrivate per ora tre domande Enrico andiamo in ordine con le risposte va bene te le mostro lo schermo sbagliato credo noi vediamo una bellissima esatto scusate ora sì sì ok e meno male che si è vista l'isola ok ecco la prima domanda no non credo che ci siano applicazioni reali di lambda calculus nel web development in generale nella programmazione però dovete considerare una cosa abbiamo detto all'inizio che lambda calculus e turing machine sono equivalenti ok e hanno dimostrato i matematici turing machine è diventata quella cosa su cui poi si sono sviluppati i calcolatori che noi conosciamo perché da turing machine c'è stata la prima implementazione concreta di un calcolatore su disegno di von Neumann che aveva messo diciamo i concetti di registry memory cpu eccetera von Neumann fa la prima primo computer che viene programmato programmato solo con linguaggio macchina linguaggio macchina è quella roba che ha inventato turing sostanzialmente sopra il linguaggio macchina ci hanno messo l'assembler sopra l'assembler ci hanno messo i vari linguaggi procedurali che noi conosciamo c cobol quello che è poi ci sono l'obgetto orientale poi arrivano i linguaggi funzionali ok lambda calculus è direttamente linguaggi funzionali quindi lambda calculus quello che avete visto con me non lo potete utilizzare però per esempio una delle cose che abbiamo visto assieme sicuramente sì anzi più di una magari carrying la tecnica di carrying cioè di valorizzazione parziale delle funzioni questo è sicuramente una roba utilizzata tantissimo vi ricordate quella la cosa che abbiamo visto alla fine che si chiama pair quindi una funzione che prende una x una y una f ritorna f di x di y ok immaginatevi che voi siate in un un client che chiama un server e il server fa qualche cosa e poi vuole rispondervi una risposta vuole rispondervi una risposta fatta di messaggio di un codice un messaggio vi può rispondere chiaramente un array ma questo array è by definition non è immutabile perché voi una volta che lo ricevete potete fare quello che volete se lui vi rispondesse un pair quindi vi rispondesse una funzione a cui passa un messaggio il codice e poi la possibilità di applicare una funzione a questo pair ve la ritorna indietro voi avete uno scrigno con le informazioni a cui potete dare una vostra funzione per farne quello che volete quindi sostanzialmente vi potete personalizzare il comportamento il client può personalizzarsi il comportamento che vuole avere sul codice di ritorno mantenendo perfetta immutabilità e senza dover sottoclassare nulla senza dover estendere nulla senza dover fare niente di questo genere quindi ci sono degli elementi dopodiché ripeto io ho fatto una prova se faccio un loop con il wild combinator se faccio un loop normale ho una differenza di prestazione di dieci volte cioè dieci volte più veloce il loop normale che un loop fatto con il wild combinator non so se ho risposto direi proprio di sì andiamo alla prossima ma in fondo hai già risposto con direi direi di no poi io come dire io a me piace questa roba qua faccio diciamo per la per la felicità di mia moglie codifico ancora tanto mi diverto io non sono però in questo momento un coder professionale cioè in ThoughtWorks faccio altre cose detto questo secondo me il paradigma funzionale è utile poi a mio parere siccome sono anziano non amo più gli estremismi è utile mischiato ad altre cose cioè a mio parere non si deve essere degli ultras né di una cosa né dell'altra ma decisamente è un qualche cosa che vale la pena vale la pena conoscere per semplificarsi la vita e per scrivere del codice che è molto più chiaro e molto più maneggevole in determinate situazioni e poi scusate una cosa un'altra cosa di cui io sono convinto è questa e nel futuro vedremo sempre più programmazione basata su stream stream programming perché perché nel mondo del web a mio parere poi potrò sbagliarmi il concetto di stream si espanderà una società che vuole sempre cose fresche sempre cose nuove e lo stream programming va mano a mano proprio con functional programming functional reactive programming quindi queste cose secondo me è bene abituarsi a maneggiarle io poi non so sinceramente nel mondo quale sia il livello di familiarità con i concetti di functional programming però certamente a mio parere è una familiarità che bisogna acquisire senza arrivare ad askele a queste cose qui cioè con javascript con typescript va benissimo questa è una domanda che sta posta in chat durante riguardo alla slide ok quindi se volessi estrarre il primo o il secondo elemento singolarmente allora un numero che cos'è per church è una funzione che prende una f prende una x e applica n volte dove n è il numero x a f in maniera indentata ok la domanda vuol dire se volessi sapere qual è la f se volessi sapere qual è la x no era relativa ai pair credo pair zero zero ah 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 ok ah ok eh allora eh i pair se tu hai un pair eh io ho usato true e false per tirare fuori rispettivamente il primo e il secondo perché true che cos'è true è una funzione che prende una x prende una y e ritorna x false che cos'è è una funzione che prende una x prende una y e ritorna y quindi true è una funzione che ritorna il primo parametro false è una funzione che ritorna il secondo parametro il pair si aspetta come terzo parametro una funzione che si prende i due parametri che ha già in pancia e poi ritorna il primo e il secondo o ci fa quello che ci vuole fare se tu vuoi ritornare il primo gli puoi passare true che faresti meglio probabilmente a chiamare first e se vuoi il secondo gli puoi passare false che faresti meglio a chiamare second ho risposto così e così dicono sì dicono sì se poi prendete se andate a guardare nel codice lo vedete insomma non è chiaro perché la sottrazione è necessario definire next pair invece per la somma era derivata direttamente da f da x la verità è che ci sono tanti modi di definire queste di definire queste funzioni c'è un altro modo di definire la sottrazione molto più complesso però da capire secondo me è un formulone cui si fa un mucchio di beta reduction alla fine ti dimostri che questo l'ho trovato un modo più più naturale da seguire come dire non so se però non è l'unico considerate questo che c'è qualcuno che ha dimostrato che con una una funzione iota l'hanno chiamata se andate a cercare sul web la trovate iota iota con una lambda function componendo una lambda function con se stessa si può costruire una touring machine quindi questo per dirvi che tutte le funzioni che abbiamo visto non è che abbiamo visto l'unica definizione di queste funzioni abbiamo visto dei modi di definirle ok poi è chiaro che se si lavora io non l'ho mai fatto non ce l'ho neanche mai provato però se si lavora solo con iota poi il livello di confusione che ne viene fuori l'improbabilità di capire quello che ne viene fuori è abbastanza elevato che cosa ci insegna ripeto da un punto di vista professionale secondo me è un esercizio da un punto di vista professionale è un esercizio è come saltare la corda per un pugile cioè ti abitua ad essere agile ok non è che ti fa vincere sul ring però ti abitua ad essere agile dal punto di vista professionale dal punto di vista del divertimento dove ognuno ognuno ha i gusti che ha ripeto secondo me c'è c'è una domanda filosofica qua dietro ma noi inventiamo per davvero o scopriamo qualche cosa che già preesisteva e se la risposta è la seconda chi ha crasturito questa qualche cosa che già preesisteva quindi diciamo che andiamo dal andiamo dal triviale mi aiuta a fare le pipeline di trasformazioni dei dati in maniera più veloce a domande invece a cui ognuno di noi ha le proprie risposte dentro il proprio cuore insomma non vorrei esagerare però io l'ho trovato così allora sicuramente c'è uno spin accademico c'è del marketing accademico non c'è un breve dubbio non c'è un breve dubbio se la domanda fosse è giusto associare lambda calculus a functional programming la mia risposta è sì è giusto perché come diciamo veramente molto sommariamente ho provato a descrivere prima da turing machine turing machine è il regno della programmazione imperativa dello stile imperativo estateful completamente estateful ok lambda calculus è il regno della programmazione funzionale completamente stateless vi faccio notare una cosa che è vero che io chiamavo 0 1 2 3 sub eccetera quindi avevo delle variabili però quella roba che avete visto prima è completamente stateless è totalmente stateless l'unico vero valore che io ho messo è l'x uguale a 0 per fargli fare l'uno a uno con i naturali come conosciamo noi ma la prima immagine che si vedeva di tutta quella funzionone indentatone eccetera è esattamente il risultato è il programma è il programma fatto in puro lambda quindi allora dicevo che se uno associa lambda calculus a functional programming sicuramente fa bene ok dopodiché AWS lambda e functional programming sono la stessa cosa probabilmente no probabilmente no ecco l'ultimo lambda calculus come primo passo per imparare la programmazione funzionale secondo passo no assolutamente no perché uno si rompe i coglioni si chiede si fa le domande ma che cosa mi serve e lo molla dopo dopo dieci minuti no no il primo passo per capire la programmazione funzionale è prendere i for loop che avete o che qualcuno ha dentro al suo codice e provare a trasformarli con dei map con dei for each e vedere quanto meglio viene fuori il codice dopodiché il secondo step secondo me è fare reactive programming e poi questa cosa qua sì è divertente cioè è un esercizio che ti aiuta però non partirei da questo cioè vi sembrerebbe come insegnare a fare suonare il pianoforte ai bambini soltanto facendogli fare le scale per otto anni cioè questi poi ti sparano ok le domande però non sono didatta io non sono didatta quindi niente le domande sono sono finite Enrico grazie ma no è comparsa una una adesso proprio no non motivi di lavoro io per lavoro faccio altre cose non faccio neanche il programmatore professionale in questo momento per divertimento per per stimolo intellettuale perché mi piace la programmazione mi appassiona la logica e ho trovato questo un un esercizio intellettualmente stimolante ecco grazie Andrea ti lascio la possibilità di condividere ok perfetto così arriviamo comunque ringrazio ancora Enrico per essere stato con noi secondo me è stato un bel un bel talk e ci ha fatto vedere un bel esercizio di stile grazie a voi grazie a voi esatto inserito la lista dei partecipanti dentro un randomizzatore di righe esatto io chiamo il nome se se la persona è presente scusate vi voglio dire una cosa se veccate dopo magari faccio l'applaud ieri sera che ho saltato la cena perché ogni tanto salto la cena per motivi di dieta non sapevo cosa fare per far passare il tempo e mi sono messo a provare a fare sta roba qua i primi passi i primissimi passi con Go quindi invece un linguaggio fortemente tipizzato eccetera eccetera ecco questo potrebbe essere un esercizio interessante per capire quali sono i vantaggi o gli svantaggi nell'avere un linguaggio non tipizzato come javascript verso un linguaggio molto tipizzato come Go nel momento in cui però si vuole fare functional programming perché Go comunque te lo fa fare perché tu puoi passare funzioni e ti possono ritornare funzioni è un esercizio a cui io non so darvi una risposta oggi perché mi sono incartato brutalmente però è una cosa è una cosa interessante scusate se vi ho seguito figurati anzi allora Niccolò Stefanuto mi pare non ci sia no Raul si ce l'abbiamo ce l'abbiamo ok quindi Raul vince una licenza JetBrains per un qualsiasi prodotto JetBrains valida un anno se ti va di lasciarmi la tua mail qui nella chat anche come messaggio diretto poi io ti invio il coupon Raul speriamo speriamo che abbia sentito e casomai se non lo recupero poi tramite meetup ok va bene allora oggi tra l'altro è l'ultimo meetup di Crafted per il 2020 quindi auguriamo a tutti buon Natale buon e sereno Natale anche se pur diverso e anche un augurio di un buon anno un nuovo anno migliore sicuramente di questo grazie a tutti e grazie a tutti grazie a Enrico e buona serata grazie a voi buona serata ciao a tutti ciao ciao ciao